Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibili per incidente, 3 km di coda tra Empoli e Montelupo-Fiorentino in direzione Firenze. Possibili disagi per lavori tra la Strassigne e Ginestra-Fiorentina in entrambe le direzioni. Sulla A1 rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Su raccordo Siena-Bettolle, scambio di carreggiata in direzione Bettolle tra Casetta-Monte Aperti e Castelnuovo-Berardenga. Sulla statale 68 Val di Cecina, dal km 20 al km 22, restringimento di carreggiata per cantiere. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!